Ci amianto nel cantiere dell'ex istituto Sacro Cuore di Torrione a Salerno, ma le polveri non si sono sprigionate nell'aria. È quanto emerso dalle analisi effettuate dall'ARPAC nell'area di cantiere che attualmente si trova sotto sequestro. Il comune di Salerno ha seguito dall'inizio la vicenda attraverso le commissioni consigliari e dopo aver ricevuto l'esito delle analisi ha provato a tranquillizzare tutti. Oggi possiamo dire che grazie all'intervento dell'ARPAC e alla sorveglianza che noi abbiamo effettuato i cittadini possono stare tranquilli perché se è vero che l'ARPAC ha confermato la presenza di amianto solido quindi delle canne fumarie di cui si è parlato che erano sui cumuli di detriti residui della lavorazione, dell'abbattimento non ha confermato assolutamente, anzi ha smentito la presenza di fibre di amianto nell'aria con i prerivi che hanno fatto anche in più parti. Le preoccupazioni maggiori erano legate alla vicinanza del cantiere con la scuola Matteo Mari. La dirigente ha comunque chiesto di sapere quale sarà il piano operativo mentre il comitato dei residenti rappresentato da Alfonso Angrisani ha sollecitato la bonifica immediata dell'area, oltre che un confronto con sindaco ed ARPAC. Noi adesso sicuramente vigileremo ancora su questa vicenda perché vogliamo essere certi che il residuo solido di amianto sia l'unica cosa presente su quel cantiere. provvederemo a fare anche insieme all'ARPAC ulteriori controlli nei giorni successivi e auspichiamo che al più presto questa vicenda si possa aiutare anche con la ripresa dei lavori e con la bonifica.